Ciao, sono Valentina e in questo video mi voglio rivolgere a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo per amore e lo faccio perché voglio mostrarvi anche tre considerazioni che ti permettono di superare questo momento di sofferenza. Se stai attraversando un periodo o una fase della tua vita in cui soffri per amore, magari perché un amore non c'è nella tua esistenza in questo momento e magari non c'è da anni, oppure hai chiuso da poco una relazione con una persona specifica, quindi con un ex, o magari punti ad una persona specifica, quindi a qualcuno che ti interessa ma non hai, come dire, un ritorno anche dall'altra parte e questo ti fa vivere un periodo di frustrazione. Ecco, in tutti questi casi so perfettamente quello che stai vivendo in questo momento perché per me è stato qualcosa che ha veramente vincolato la mia esistenza per moltissimi anni, l'aspetto sentimentale. Ora questa sicuramente è stata una mia fragilità, però ricordo perfettamente che quando le cose a livello sentimentale non funzionavano per me si fermava un pochino tutto, quindi tutte le altre aree della mia vita passavano in secondo piano e quindi di conseguenza io stessa passavo in secondo piano rispetto a ciò che per me era importante, per cui ti capisco perfettamente. Però vorrei oggi qui porre la tua attenzione di fronte a tre considerazioni che è veramente necessario tu faccia e faccia tue se vuoi vedere questa situazione di sofferenza in un modo completamente differente. Ora quello che io insegno all'interno di questo canale, all'interno dei miei videocorsi, nel percorso individuale, all'interno del mio sito è fondamentalmente il processo di manifestazione, il processo di manifestazione applicato, se così vogliamo dire, alla vita sentimentale. Se tu sei nuova di questi concetti, quindi dell'aspetto del processo di manifestazione, queste tre considerazioni saranno veramente molto importanti perché ti fanno capire come il processo di manifestazione ti mostra e ti pone di fronte alla realtà, che è un modo completamente differente rispetto a quello a cui siamo stati abituati. Se invece hai già un pochino di conoscenza rispetto al processo di manifestazione, queste tre considerazioni saranno comunque, ripeto, molto importanti perché ti permettono di andare a rifocalizzarti laddove è importante, qualora in questo momento tu stia soffrendo per amore. Ti ricordo anche che ho creato una risorsa gratuita e che ti mostra proprio i primi cinque passi per manifestare consapevolmente la vita sentimentale che si desidera e ti lascio il link in descrizione. Ovviamente è una risorsa, ripeto, del tutto gratuita. Quindi andiamo immediatamente a queste nostre tre considerazioni. Il principio base del processo di manifestazione è uno ed è quello che praticamente se vogliamo ci spiega tutto il funzionamento del processo ma soprattutto tutto il funzionamento della nostra realtà, della realtà esterna che noi viviamo. E questo principio dice che la realtà esterna è il riflesso della nostra realtà interna. Quindi la realtà esterna è la realtà 3D, le circostanze esterne, tutto ciò che è materia, in poche parole, comprese in questo caso le persone, quindi le persone, la nostra vita, quello che noi viviamo al di fuori del nostro stato interiore. La realtà interna invece è fondamentalmente appunto lo stato interiore ma soprattutto è ciò che noi crediamo essere vero di noi stessi in primis, che è la cosa più importante, e anche del mondo circostante, quindi delle persone, delle situazioni, degli eventi e così via. Quindi questa prima considerazione che tu devi assolutamente fare è appropriarti, fare tuo questo principio. Ora capisco che magari potrebbe non sembrare così, no? Magari non siamo, noi non siamo abituati in realtà a vedere questo tipo di concetto, di non solo vederlo, proprio di viverlo, no? Siamo abituati al vedere per credere, anziché al credere per vedere, e questo tipo di approccio è credere per vedere. Perché credere per vedere? Perché la nostra realtà interna è ciò che noi crediamo essere vero. Quindi prima devo andare a lavorare sulle mie credenze e poi ci sarà di conseguenza un riflesso nella nostra realtà esterna. Perché questa considerazione è importante nel momento in cui tu adesso stai vivendo un momento di sofferenza per amore. È importante perché A ti può far fare delle riflessioni rispetto a ciò che è accaduto e puoi anche vedere, e sono certa che sia così, che gli effetti, che quello che è accaduto, se per esempio hai chiuso una relazione, o magari sei stata lasciata, o qualcuno non prova interesse nei tuoi confronti, tu invece sì, chiediti che cosa credi e che cosa hai creduto fino a questo momento. Se effettivamente credevi che ti avrebbe lasciata o lasciato, se effettivamente credevi dentro di te, sotto sotto, che quella persona non può avere interesse per te, perché magari tu non sei abbastanza, non ti senti all'altezza e bla bla bla. Perché sono certa che quando guardi indietro, sono certa perché io lo faccio sempre, cioè l'ho sempre fatto, nel senso che mi sono accorta che era proprio così, vedrai che gli effetti nella realtà esterna coincidono con ciò che tu credevi. E ogni tanto pensiamo a, vedi ho avuto una premonizione, io sapevo che sarebbe andata così. Non è una premonizione, è perché noi creiamo la realtà. E infatti la seconda considerazione che è importante che tu faccia tua per superare, per scollinare questo momento di sofferenza, è sapere che sei tu il creatore della tua realtà. Perché è sulla base di ciò che tu credi essere vero, che la realtà si conforma per andare a confermare le tue credenze. E quando noi diciamo ciò che noi crediamo essere vero, rappresenta anche chi siamo, ciò che noi siamo in quel momento. Perché se io credo di essere inadeguata, io in quel momento sono inadeguata, perché mi sento inadeguata. E questo perché accade? Accade perché sono le nostre credenze che vanno a muoversi verso il sentire, no? I famosi tre livelli, quello del pensiero, quello delle emozioni, del sentire, quello delle credenze. Ovviamente se io credo essere vero, di essere per esempio inadeguata in quella relazione, o se credo essere vero che quella persona non mi vuole, non mi vorrà mai, pensa ad altro, io non sono il suo, il suo, non sono al primo posto per quella persona. Se io credo questo, la realtà esterna si conformerà. E quindi qui passiamo alla terza considerazione che è importantissimo fare. Perché credo di essere inadeguata, per esempio? O perché credo che quella persona mi lascerà? O perché credo che quella persona non mi voglia? O perché credo che nessuno mi voglia? Perché credo che non incontrerò mai qualcuno? E che ormai è troppo tardi? Tutto questo ha a che fare con la terza considerazione. Ossia che è il tuo amor proprio l'unico aspetto su cui devi puntare il tuo sguardo in questo momento di sofferenza per amore. Nel tuo amor proprio. Perché se questi sono gli effetti nella realtà esterna, significa che tu non hai un grande amor proprio. Non credi di meritare ciò che desideri. Non credi di essere abbastanza. O forse credi di essere che è normale che tu venga lasciata o lasciato. O che è normale che tu incontri sempre persone fatte con lo stampino che non si vogliono impegnare o che tradiscono o che ti lasciano o che hanno sempre qualcosa di più importante da fare rispetto a stare con te. Se ci sono queste credenze, se ci sono queste credenze, significa che devi riportare l'attenzione su te stessa. Nel tuo amor proprio. Perché sei tu la prima persona che deve credere che è una gioia passare il tempo con te. Perché sei una persona di valore. Perché sei una persona adorabile. Sei una persona intelligente. è per questo che anche qui, in un momento di sofferenza per amore, il mio grandissimo consiglio è riporta l'attenzione su di te. Non su ciò che non hai e che ti fa soffrire nell'ambito sentimentale, ma impegnati, scegli di fare tutte e tre queste considerazioni, riportando l'attenzione su di te. Perché facendolo innanzitutto occupi spazio, cioè la tua mente è occupata a pensare ad altro, a pensare a queste tre considerazioni molto importanti e a non stare a crogiolarsi nel dolore, che so che è molto bello e molto comodo alle volte, e lo dico in prima persona perché io adoravo farlo sotto sotto, soffrivo ma adoravo perché era diventata un'abitudine, ma ti posso assicurare che oltre a veramente influire sulla manifestazione e quindi a darci altri motivi per soffrire, perché se io mi sento sofferente, abbandonata, sfigata, tradita e così via, vado e lo sento, vado a creare la condizione, no? Perché secondo la nostra prima considerazione, il nostro grande principio, la realtà esterna è il riflesso della nostra realtà interna, quindi non serve. In più stai dedicando del tempo, troppo tempo, a qualcosa al di fuori, anziché a qualcosa al di dentro, che è la tua realtà interna. Ti ringrazio infinitamente per essere stata qui con me, è stato come sempre un grandissimo piacere e ci vediamo nel prossimo video.